Sono dati positivi quelli registrati in Abruzzo per questo ponte del 25 aprile. Tante le prenotazioni arrivate anche da fuori regione sia al mare che in montagna. Tra cibo, cultura e natura si è registrato quindi una buona presenza, dati che rappresentano anche un importante banco di prova in vista dell'estate. Ma per il presidente di Asso Turismo, Confesercenti Abruzzo, Gianluca Grimi, bisogna fare di più per attrarre un maggiore flusso turistico e destagionalizzare le presenze. Che l'Abruzzo piaccia è poco ma sicuro, che gli eventi in Abruzzo riescano bene è altrettanto poco ma sicuro, che siamo pienamente soddisfatti? Oggettivamente no. Nel senso che stiamo facendo un buon 25 aprile, sarà un buon primo maggio per il campionato che noi stiamo facendo, ma altre regioni fanno un campionato diverso. L'indice di riempimento delle camere in Umbria adesso è oltre il 90%, noi siamo sul 70% per le strutture che sono aperte. Sostanzialmente diciamo che la costa non è ancora completamente aperta. Possiamo dire che stiamo facendo un buon 25 aprile, i ristoranti lavoreranno bene, i negozi spero anche, gli alberghi non sono ancora tutti completamente aperti, il che significa che non affrontiamo ancora a pieno il tema della destagionalizzazione, che è quello in cui l'Abruzzo dovrebbe eccellere. Per il presidente Grimi bisogna sfruttare di più i tanti eventi come quelli in provincia di Teramo che sono in corso in questo periodo dell'anno creando dei pacchetti ad hoc per i turisti. Il ponte del 25 aprile, primo maggio in provincia di Teramo è qualcosa di eccezionale. Abbiamo avuto una importante manifestazione velistica al porto di Giulianova con migliaia di presenze. C'è la Madonna dello Splendore di Giulianova con tutte le sue attrazioni, la Madonna dei Lumi di Civitella con tutte le sue attrazioni. Fra poco avremo il grandissimo evento delle virtù. In realtà questo dovrebbe essere la settimana centrale del turismo dell'anno. Cosa si può fare per raggruppare un po' tutte queste iniziative? Il tema della governance del turismo è sempre stato centrale. Non siamo ancora pienamente in grado di mettere a terra tutte le nostre idee, nel senso che ci dovrebbe essere maggiore collaborazione tra i vari enti che si occupano di turismo. Sostanzialmente abbiamo una marea di enti che si occupano di turismo ma non riusciamo a mettere a terra iniziative concrete.